Il CSTP pronto a dismettere il deposito di Cava de Tirreni per le ormai note vicende economiche. Una decisione prospettata da tempo e che ora ha trovato d'accordo le organizzazioni sindacali, le quali, consapevoli dello Stato e liquidazione della società, hanno preso atto della necessità dell'azienda Mobilità di recuperare finanze, auspicandosi che un eventuale ritorno in bonus del CSTP possa arrestare questa procedura. Il trasferimento delle corse che partivano dal centro metelliano saranno spostate sulle strutture principali del consorzio, quelle di Salerno e Pagani e presso il capolinea di Mercato San Severino. Ed è qui che verranno spostate le linee 47 e 57 assieme ai servizi urbani di Baronissi, Fisciano e Mercato San Severino stessa. Nel corso dell'operazione di vendita verranno poi continuati gli altri trasferimenti, un'operazione che i sindacati si augurano possa avvenire con l'opportuna gradualità in modo da creare il minor disagio possibile al personale. Le organizzazioni inoltre suggeriscono anche per ragioni economiche di individuare un sito alternativo di stazionamento, limitando tempi e chilometri di trasferimento soprattutto per il servizio urbano di Cava. L'azienda si è impegnata a cercare una soluzione che vada incontro alle richieste delle organizzazioni sindacali. Nel frattempo la situazione resta critica con le corse in diminuzione e i lavoratori sul piede di guerra. Dove discorso la seduta di Consiglio provinciale che ha preso atto della delibera di giunta provinciale del 26 luglio 2012 e della conseguente attivazione della procedura di invito di aziende operanti nel settore del trasporto pubblico locale per la partecipazione alla procedura non negoziata di affinamento temporaneo e di urgenza tutto il 31 dicembre 2012 e comunque fino all'individuazione prossima del nuovo soggetto gestore dei servizi attualmente affidati al CSTP. Ci sarebbero poi novità in arrivo dalla regione Campania per lo sblocco dei fondi necessari al pagamento degli stipendi e ad annunciarlo l'assessore trasporti della provincia Luigi Napoli.